Bene, cosa ho comprato da Honest Eps? Iniziamo da ferro da stiro. Voilà! Ferro da stiro tra una modica cifra di 15 dollari. Regolazione di temperatura, spia che indica l'accensione. Eeeh, non combina, eccola qui, spia che indica l'accensione. Eeeh, ok. Quindi, Plate. Da 6 dollari, vedo tutto, bel Plate. Il colore assurdo. Scarp! Ecco qui, il mio bel paio di scarponcini per... Eeeh, questi quanto... Sono costati, non lo so. Ma... Quale vuole? No! 9 dollari e 99. Voilà! Quindi... E infine... La giacca. La giacca per 24 dollari e 99. Giacca in bottiglina. Caldina, caldina. Guarda. Questo è tutto. Grazie a tutti